Un saluto a tutti da Hightech Italia Benvenuti in questa nuova video guida dove vi spiegheremo come unire più pdf senza l'utilizzo di alcun programma è veramente una cosa semplicissima, l'unica cosa che c'è da fare è andare su questo sito che vi mostro basta scrivere sulla barra di google ilove pdf aprite il primo link che vi appare come vedete queste sono tutte le opzioni di cui vi potete usufruire si possono comprimere pdf, trasformare word da word a pdf, da jpeg a pdf, insomma veramente moltissime funzioni quella che ci interessa è unire pdf qui potete scegliere se selezionarli dalle cartelle del computer o trascinarli per comodità noi li trasciniamo in ordine ovviamente dal primo pdf all'ultimo quindi noi per comodità abbiamo creato questi due pdf andiamo a lasciare il primo e il secondo adesso è semplicissimo, basta unire pdf e, men che non si dica, saranno passati 0,1 secondi ecco qui, parte già il download del nostro pdf che se noi apriamo, eccolo qui la prima pagina e la seconda pagina è una soluzione veramente pratica per chi non vuole perdere tempo a scaricare o a cercare programmi esistono ovviamente, ve ne mostreremo qualcuno se mi chiedete qui sotto di farlo sul nostro canale vi ricordo che trovate moltissime video guide moltissimi unboxing, review e quindi vi invito a iscrivervi per visitare il nostro canale spero di essere stato abbastanza chiaro un saluto a tutti da Hitech Italia ciao